Bene, stasera c'è una nuova esercitazione di coding utilizzando la metodologia gamification, cioè andiamo a costruire un gioco per imparare a fare codice con Scratch. Scratch 3 lo utilizziamo online direttamente collegandoci con il nostro account. Io mi sono già collegato, ho fatto il login con il mio account e quindi ho a disposizione lo spazio cloud in cui sarà salvato il lavoro che andiamo a fare. Andiamo ad iniziare direttamente. Dunque tutti penso conosciate il famosissimo gioco Pac-Man, quella pallina che mangia le vitamine, i punti e i frutti e quindi noi vogliamo costruire un labirinto in cui questo Pac-Man si muove andando avanti e in altre direzioni per andare a prendere questi frutti che noi adesso andremo a collocare nelle posizioni. Cominciamo direttamente, ci troviamo con lo schermo iniziale in cui c'è il solito Scratch, il gatto, ma non possiamo utilizzare questo come personaggio, quindi andiamo ad eliminare cliccando sul cestino che sta sulla mattonella del sprite 1. Clicca e quindi adesso siamo senza personaggio. Per fare un personaggio allora andiamo con il mouse in modalità rollover, cioè senza cliccare. Andiamo qui sul sul pennello, ecco, quindi lo disegniamo noi invece che cercarlo tra le librerie disponibili in Scratch. Dunque prima cosa adesso gli diamo un nome, quindi clicchiamo sul casella sprite, cancelliamo sprite 1 e lo chiamiamo col suo nome Pac-Man. Dunque adesso naturalmente è tutto vuoto e quindi lo dobbiamo disegnare noi. Io consiglio di zoomare in modo da avere, almeno con un paio di clic, per avere un ingrandimento che ci permetterà di disegnare con una maggiore precisione. Allora dobbiamo fare il pallino, che è quindi un cerchio di colore giallo, quindi clicchiamo qui sul giallo, scegliete un giallo abbastanza pieno e anche la saturazione la portiamo al 100%. Poi possiamo decidere se c'è un contorno nero o di un altro colore, quindi andiamo su contorno e diciamo di no, quindi andiamo a sbarrare la possibilità di un contorno. Dunque adesso siamo pronti per disegnare e quindi andiamo a cliccare in un punto a piacere e guardate che se non tengo premuta la maiuscola, non il blocco a maiuscolo, ma la maiuscola semplice, otterrei degli ellissi. Quindi per essere sicuri di fare veramente un cerchio, allora teniamo premuta la maiuscola mentre disegniamo. Adesso non importa quanto grande lo vogliamo fare, perché poi lo potremo ridimensionare nelle dimensioni adatte a potersi muovere tra le corsie del labirinto. Allora questo è il nostro cerchio, dobbiamo fare due costumi, uno con la bocca chiusa e per fare la bocca chiusa prendiamo la linea, gli daremo la dimensione, lo spessore quindi della linea proviamo con 5, poi anche questo può essere modificato se non ci va bene come grafica finale. Il colore dovrebbe essere nero, quindi siccome è già nero andiamo a cercare il centro, notate che se vi avvicinate al centro, ecco allora io tiro una linea dritta con il tasto maiuscolo premuto, poi devo fargli un occhio rosso e allora andiamo a cercare il colore, intanto clicchiamo di nuovo, anzi clicchiamo sul pennello e gli diamo il colore rosso, il pennello da 10 è piccolo, quindi dobbiamo fare un occhio ben più grande, diamogli 40 come dimensione, eccolo che ci segue, questo è il diametro del pennello che stiamo impostando, quindi va bene già così, quindi un solo clic in questa posizione e è sufficiente per dare l'impressione di un occhio e una bocca. Adesso però abbiamo bisogno di un secondo costume, il costume che rappresenta un fotogramma per l'animazione che andiamo a creare in modo tale che quando si muove ogni passo che farà si dovrà scambiare il costume con bocca chiusa oppure bocca aperta. Quindi facciamo con il tasto destro sulla mattonella del costume 1, andiamo a cliccare e scegliamo duplica, viene creato un costume 2, costume 2 che però è della stessa dimensione ed è anche della stessa figura, quindi dobbiamo modificare andando a prendere di nuovo la linea, la linea nera e con lo stesso diametro dei 5 pixel andiamo sul centro e tiriamo ecco più o meno fin qua. Poi facciamo simmetricamente la stessa cosa anche così e però adesso dobbiamo cancellare l'interno, quindi andiamo a prendere la gomma più semplicemente e ingrandiamo per poter essere più precisi, andiamo a svuotare quanto più precisamente è possibile, però possiamo anche andare a rifinire ancora maggiormente, adesso spostiamolo un po' più al centro così possiamo anche ingrandire ancora ed essere più precisi magari con una gomma anche un tantino più piccola, 40 è un po' troppo, proviamo col 20. Ecco qui che dovrebbe andare bene così. Non è perfetto però lo accettiamo perché è un'esercitazione, sicuramente voi sarete in grado di farlo meglio. Quindi questo dovrebbe essere il nostro personaggio. Attenzione, li dobbiamo ridimensionare, però dobbiamo fare in modo che siano tutte e due nella stessa posizione. E allora andiamo qui adesso sullo sprite, lo chiamiamo Pac-Man e quindi possiamo tornare adesso sul codice, ma dobbiamo disegnare anche il labirinto, quindi clicchiamo sullo stage e quindi ancora su sfondi. Siamo sull'editor grafico del labirinto, ingrandiamo un po'. Dobbiamo disegnare delle linee angolari che delimiteranno il percorso e le corsie in cui potrà muoversi il nostro Pac-Man. Quindi prendiamo la linea nera, però come dimensione gli daremo 20 e facciamo una prova perché se è troppo andremo a modificare. Prendiamo il colore, massima saturazione, scegliamo un colore blu. E questo colore lo utilizziamo per le linee. Lo spessore della linea di colore scegliamo l'azzurro, anzi un blu pieno, carico, e dimensione 20. Quindi possiamo iniziare adesso di qua a fare, tenendo premuta la maiuscola otteniamo degli angolari, perfettamente perpendicolari tra di loro. E poi da quest'altra parte facciamo stessa cosa anche giù, mantenendoci sempre e possibilmente con le stesse dimensioni di larghezza. E anche di qua. Poi si può ritoccare se le dimensioni sono eccessive. Sì, possiamo ancora abbassare un po'. E poi facciamo un ultimo qui al centro, così, e tiriamo giù anche di qua. Beh, come labirinto potrebbe anche andare, però vediamo, dando un'occhiata allo stage, che il nostro Pac-Man è troppo grande. Per farlo diventare più piccolo, quindi selezioniamo qui lo sprite, gli diamo sulle proprietà dimensione 100, non va bene, proviamo con un 25, forse troppo piccolo, e allora proviamo con un 35. e proviamo a vedere se può passare in mezzo alle varie corsie. Io direi di sì. Andiamo però qui di nuovo sullo sfondo. Va bene, allora, fatto questo possiamo cominciare a dare i comandi per far muovere il nostro Pac-Man. Quindi ritorniamo adesso su Codice, selezioniamo, ed è già selezionato Pac-Man, perché vogliamo cominciare a dargli i comandi per i movimenti nelle quattro direzioni. E allora andiamo qui su Situazioni, e scegliamo il primo, quando si preme il tasto, ingrandisco un po', così lo vedete anche voi un po' meglio. Quando si preme il tasto Spazio? No. Allora andiamo a scegliere il tasto, ad esempio, Freccia su, per farlo andare verso l'alto. E che succede quando andremo a cliccare sul tasto Freccia in alto? Bene, andiamo qui su Movimento e scegliamo il blocco Punta in direzione, lo attacchiamo qui, direzione deve essere non a destra, ma giriamo la freccia verso l'alto, cioè 0 gradi. Dopo aver fatto questo passaggio potremo far muovere il nostro Pac-Man di 10 pixel, e quindi lui li chiama Passi, quindi andiamo a scegliere Fai 10 passi, lo attacchiamo qui. Dopo aver fatto questo comando Fai 10 passi, dobbiamo cominciare ad alternare i costumi, perché deve dare l'effetto del movimento e anche dell'apertura e chiusura della bocca. Quindi andiamo su Aspetto e scegliamo Passa al costume seguente, questo qui. E poi subito dopo andiamo sul Controllo e scegliamo Ferma, non ferma tutto, ma ferma questo script. Bene, adesso anche se con un solo script il movimento avanti può già cominciare a farlo. E possiamo provare subito, se premo sul tasto freccia a destra sulla tastiera, dovrebbe già cominciare, anzi ho premuto freccia in alto, avevamo detto, freccia su, se ne va in alto. E non posso farlo tornare giù, perché non ho ancora creato il codice per il tasto freccia giù. Per farlo, siccome è molto simile a questo, invece di riscriverlo ogni volta, adesso faccio tasto destro, duplica e mi viene una copia. La metto qui e quindi vado a scegliere freccia giù. Quando si premerà freccia giù dovrà andare, quindi puntare in direzione, clicchiamo sul goniometro e facciamo girare la freccia verso il basso, così, e farà anche qui dieci passi. Già adesso dovrebbe funzionare per farlo tornare giù. Proviamo, infatti può tornare giù. Naturalmente adesso passa su i muri del labirinto, ma dopo non dovrà farlo. Ci mancano adesso i tasti di freccia a sinistra e freccia a destra. E per farlo, quindi, possiamo ancora una volta duplicare il primo, lo mettiamo qui in basso, duplichiamo anche questo, lo mettiamo qui a destra. Quindi dovremo mettere qui freccia a sinistra e direzione a sinistra. Da quest'altra parte tasto freccia a destra e cliccando sul goniometro la freccia dovrà andare a 90 gradi. Adesso il nostro pacman è in grado di muoversi in alto, in basso e anche avanti e anche indietro. Naturalmente sembrerà strano, perché adesso, come vedete, quando io lo muovo in alto e in basso si sposta anche. Dobbiamo andare a fare un piccolo ritocco con l'editor grafico, è già selezionato il pacman, scegliamo costumi e adesso attenzione perché, vedete, devo selezionare tutti gli oggetti, quindi sia il pallino giallo sia il pallino rosso e la linea. L'ho fatta la selezione premendo il pulsante di selezione e cliccando fuori e trascinando la finestra che si crea, la cornice che si crea, deve incorporare tutti i pezzi che sono all'interno e quindi adesso quello che sto per fare sarà applicato a tutto. Ingrandisco un po' per vederlo meglio. Adesso guardate, se io prendo esposto, lo vedete dentro all'occhio, quello è il centro proprio del nostro disegno, quindi dovremo far coincidere il disegno, il nostro centro, con quello. Adesso l'ho fatto per il costume 1, ma stessa cosa, clicco su costume 2, selezioniamo di nuovo come prima, faccio la cornice tratteggiata per selezionare, quando lascio vengono incorporati tutti i pezzi, quindi dobbiamo spostare il tutto, vediamo dov'è quel centro, eccomi, che quando riesco a prenderlo c'è un effetto calamita per cui si attaccano le parti insieme. Va bene così, l'abbiamo fatto su tutte e due i costumi, torniamo sul codice e adesso vedete che se io muovo avanti e indietro e so e giù, non fa più quei saltelli ed è un movimento assolutamente ottimo e lineare. Bene, allora noi adesso che abbiamo fatto il personaggio, intanto lo possiamo posizionare con la faccia rivolta a destra in questo angolino qua, perché sarà il suo punto di partenza. Possiamo cominciare a mettere i frutti e allora cominciamo a prendere, andiamo a prendere, cerchiamo qui, in modalità rollover che vuol dire senza cliccare, andiamo a muovere il mouse, ci spostiamo su scegli uno sprite, adesso clicchiamo, ci apre la libreria, clicchiamo su cibi, prendiamo la prima mela, ce la siamo portata dentro, è un po' troppo grandicella effettivamente, allora subito dimensione, proviamo con un 75, così potrebbe andare, però anche 70 forse è meglio ancora. Dunque gli cambiamo il nome e la chiamiamo mela1, perché mela1? Perché ne dovremo fare 3, quindi per il momento lo chiamiamo così e possiamo già creare anche, anzi lo facciamo subito dopo, prima procuriamoci gli altri frutti, ci serve anche un'arancia, perciò torniamo di nuovo in rollover sul gatto, ci spostiamo sulla lente, clicchiamo col sinistro, andiamo su cibo e prendiamo l'arancia 2, anche questa è troppo grande, allora dimensione, clicchiamo sulla proprietà della dimensione, la facciamo di 70, qui e forse anche 60 può andar bene, sì 60, e poi cambiamo il nome, lo chiamiamo arancia 1, spostiamo questa arancia 1, la mettiamo qui nell'angolo, questa mela la mettiamo in quest'altro angolo e poi andiamo a prendere anche le banane, quindi ancora in rollover sul gatto, andiamo su cibo, andiamo su bananas, attenzione cambiamo subito il nome, togliamo quella S e mettiamo il numero 1 e poi troppo grande, anche questa, la facciamo ridotta a 70 e la portiamo qui in mezzo, poi la posizione esatta ce la sceglieremo dopo quando avremo tutte e tre, tre esemplari, cioè tre copie di ciascuno di questi tre frutti. Ma vogliamo cominciare a creare anche il codice per la mela, in modo tale che quando andremo a duplicare la mela la duplicheremo anche con il codice incorporato. E allora quindi la prima istruzione per questo, controllate sempre di aver selezionato la mela, clicchiamo qui per selezionarla, ma controllate che compaia anche una icona un po' sbiadita nell'angolo della zona degli script e quindi quando dico script intendo il codice, cominciamo a cercare situazioni. Prendiamo quando si clicca sulla bandierina verde, ingrandiamo un po', che cosa deve fare? Prima di tutto le deve far comparire, la deve mostrare la mela, quindi andiamo su aspetto e cerchiamo il mostra, lo prendiamo, lo trasciniamo qui e poi cerchiamo un controllo che si chiama per sempre. Eccolo, lo attacchiamo qui sotto e quindi questo è un ciclo che ripeterà le operazioni che metteremo qui dentro fino a quando si verificherà una certa condizione. Qui la condizione è per sempre, allora noi dobbiamo metterne un'altra, un se, allora, in modo tale che quando si verificherà una certa condizione, e cioè la condizione adesso la decideremo, dovrà nascondere. Quindi andiamo a prendere di nuovo aspetto, cerchiamo scorrendo con la rotella nascondi e lo mettiamo qui dentro. Ma non abbiamo ancora definito qual è la condizione che deve essere verificata. Quindi andiamo a cercare tra i sensori questa categoria di colore azzurrino e Cyan. Dunque qui dobbiamo cercare se sta toccando Pac-Man e allora se sta toccando Pac-Man non c'è, però possiamo cliccare qui sulla freccetta, scegliere Pac-Man e così abbiamo modificato e personalizzato questo sensore. Lo prendiamo, lo spostiamo fino ad andare nell'area esagonale, quando la lasciamo si attacca e si allarga anche lo spazio per poter incorporare il tutto. Quindi questo qui è già sufficiente per il momento, poi dopo aggiungeremo che nasconde, dovrà contare anche che l'ha mangiata, quindi dovremo fare un punteggio. Proviamo a vedere se fa scomparire la mela. Adesso ho attivato il codice, infatti vedete che è diventato luminoso con un alone e quindi adesso proviamo a far scomparire quando mi avvicino. Me la mangia? Sì, ha mangiato, mentre le altre ancora no. Dunque io consiglio a questo punto, prima di andare avanti, intanto dobbiamo stoppare perché altrimenti rimane sempre illuminata qui. Dunque qui adesso dobbiamo creare una variabile e allora clicchiamo su variabili, clicchiamo qui su crea una variabile, la chiamiamo contatore e subito direttamente su ok. Adesso la variabile contatore è comparsa qui, come vedete potrebbe diventare anche un punteggio. Se voglio la posso mettere qui spostandola col mouse oppure guardate posso farla scomparire cliccando su questo flag che è per il momento già con il segno di spunta. Ho tolto il segno di spunta però la variabile comunque esiste e continuerà a funzionare come contatore anche se non è visibile. Qui deciderete voi. Se la volete vedere, quindi basta cliccare di nuovo su contatore e vedrete contatore conterà che cosa? I frutti mangiati. Ma se volete semplicemente far comparire il numero senza la scritta basta fare un doppio clic, scompare la scritta e rimane il valore. Se faccio ancora un doppio clic ci permette di imbrogliare perché a questo punto con il cursore io potrei far cambiare il valore e arrivare addirittura fino a 100 senza merito, quindi questo serve soltanto per fare quando si crea il software per fare qualche controllo. Allora per essere onesti doppio clic e compare il contatore e lo lasciamo qui. Così questo ci dirà, ci conterà i frutti che abbiamo preso. Dunque che cosa possiamo fare ancora? Ecco farli comparire perché adesso guardate anche se io clicco, no non ho più la mela e dovrei farla ricomparire, adesso dico mostra per farla ricomparire e quindi con il mio passo sulla banana, tanto per il momento posso anche fare così, il contatore non ha incrementato niente, quindi devo fare in questo modo adesso, torno sul codice della mela, anzi sul codice, sì perché quando la nascondo, devo interrompere, quando nascondo vuol dire che ha mangiato il frutto. Ecco, quindi a questo punto potrei dirgli anche, andiamo sulle variabili e prendo questo, cambia contatore di 1. Quindi che significa? Lo metto qui perché quando si verificherà che avrà toccato Pac-Man, in realtà è Pac-Man che avrà toccato il frutto, però reciprocamente è la stessa cosa come funzionamento e quindi il sensore sente questo contatto, deve aumentare di 1 la variabile contatore, quindi da 0 passerà a 1. Già adesso se vogliamo possiamo provare e quindi facciamo un clic su bandierina verde, facciamo ricomparire la nostra mela perché se non la vediamo, devo stoppare. Allora, visualizziamo la mela, spostiamo un po' il Pac-Man e facciamo partire lo script. Andiamo adesso, intanto tenete d'occhio qui, il contatore è arrivato a 3 perché quello che noi non vedevamo comunque veniva memorizzato. Quindi vado qui, adesso quando mangio la mela devo andare a 4. Ecco qua, scomparsa la mela, il contatore è arrivato a 4, però ogni volta che io inizio, notate, interrompo, inizio, il contatore rimane. Quindi se non voglio imbrogliare è necessario che ogni volta che si preme la bandierina verde che segna l'inizio della nuova partita, deve essere azzerato il contatore. Per farlo dobbiamo andare sul Pac-Man e qui dobbiamo aggiungere un altro script. Quindi andiamo su codice, andiamo a prendere situazioni. Quando si clicca su bandierina verde, bene, a questo punto dovrà andare sulle variabili, deve portare, quindi deve azzerare la variabile, quindi porta il contatore a zero e poi dovrà anche posizionare il Pac-Man nella posizione che gli diciamo noi. E qual è la posizione? Dunque dovrà essere questa qui. Ecco, per prendere queste coordinate, che vedete le assegnate già qui, sono per la x204 e la y142, noi adesso è sufficiente che andiamo qui su aspetto, e no, anzi su movimento. Dunque, vai a, eccolo qui, notate che già ha le coordinate attive, cioè quelle che abbiamo ottenuto trasportando noi il Pac-Man in questa posizione. Perciò l'ho fatto prima spostare qui, in modo da dargli i valori giusti delle coordinate iniziali. E quindi a questo punto ogni volta che si inizia con la bandierina verde, quindi avremo dato le coordinate per il posizionamento iniziale, avremo azzerato il contatore e a questo punto c'è un'altra variabile che non è una variabile gestibile da me, ma è una variabile di sistema e quindi dobbiamo andare sui sensori ed è quella che si chiama cronometro. Devo azzerare il cronometro perché altrimenti non posso utilizzare il tempo come valore che invece io voglio mostrare alla fine. Dopo aver fatto questo possiamo fare anche un altro controllo per contare se ha toccato i bordi del muro, perché ogni volta che tocca i bordi dovrà subire una penalità. E quindi per fare questo dovremo prendere un altro controllo per sempre, per sempre, eccolo qui. E quindi a questo punto prendiamo anche un controllo se allora questo e lo mettiamo qui dentro. Quindi che cosa succede? Azzerato il cronometro e per sempre deve controllare se sta toccando il colore blu. Quindi andiamo a prendere sui sensori se sta toccando il colore. Adesso il colore rosso, però adesso vedremo come si fa a cambiare il colore del sensore. Basta cliccarci dentro, compare questa palette, prendo il contagocce e vado a toccare con il contagocce il punto del colore che mi interessa blu. Così vedete è diventato blu il colore che viene controllato ogni volta. E che succede quando va ad urtare il muro, che è di colore blu, allora dovrà tornare alle posizioni iniziali. E posizione iniziale è questa. Quindi stacco un pochino, ho detto stacco, mi prendo questo qui, lo copio, quindi con un duplica, e uno lo riattacco dove era. Questo lo riporto qua e questo che ho duplicato lo metto qui in mezzo, così ha esattamente lo stesso valore iniziale. Meno 148. Ancora. Meno 148. Dunque, proviamo a partire. Sì, ci siamo. Adesso, dunque, che cosa c'è rimasto da fare? I punti ce li segna. Viene azzerato e viene riportato, perché anche se io adesso lo sposto, proviamo a ripartire. Ecco, me lo riporta all'inizio. Non solo, ma se io urto il muro blu, ecco, come vedete, me lo riporta all'inizio. Quindi funziona. Possiamo adesso finalmente fare le copie e mettere gli altri frutti. Ogni frutto ha già il proprio script. Vediamo se dobbiamo aggiungere qualcosina. Beh, dovremmo aggiungere lo script della ciambella. La ciambella la metteremo alla fine, ma facciamo prima un'ultima prova. Riduciamo la dimensione dello script, perché io adesso voglio fare... Prendo questo script tutto intero, guardate, me lo porto sull'arancia 1, che ha dondolato per un attimo per farmi capire che l'aveva selezionato. Faccio la stessa cosa anche su banana, ha dondolato, quindi l'ha preso. Infatti adesso guardate, se clicco su arancia c'è lo script, prima non c'era, è anche su banana. Dunque, adesso posso riduplicare l'arancia, tasto destro duplica, tasto destro duplica, perché adesso ho anche nella duplicazione duplicato anche il codice. mettiamo in ordine, così. Facciamo lo stesso per banana, duplica, banana, duplica, metto in ordine, così l'ho in ordine. Dunque, abbiamo adesso tutti i frutti e anche tutte le posizioni, però le dobbiamo ancora dare, quindi mettiamo un pochino di ordine qui. Mettiamo questa mela qui al centro, mettiamo le banane qui in alto, poi mettiamo un'altra mela qui e un'altra mela la mettiamo qui. Poi per la banana, una può andare bene di qua, una di qua. Vediamo se abbiamo rispettato un po' l'esercizio. Ci proponeva già lui delle posizioni. Abbiamo messo la mela qui, no, qui la non posso mettere l'arancia perché ci deve andare la ciambella, giustamente. E allora mela, 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 banana può andar bene anche qui, questa arancia la mettiamo qua. E poi basta, per il resto potrebbe andare. Abbiamo queste banane, le mettiamo di qua. Ora ci rimane soltanto da mettere la ciambella, che è il premio finale. Naturalmente qui però dobbiamo stare attenti perché non potremo andare a far mangiare la ciambella prima di aver mangiato tutti i frutti. Quindi dobbiamo includere un altro sprite in modalità rollover sul gatto. Andiamo sulla lente, cerchiamo cibi e dobbiamo prendere la ciambella, che è questa. È troppo grande, quindi andiamo sulle dimensioni, diamogli un 50, la mettiamo qui. Possiamo cominciare a scrivere per la ciambella un altro script. E quindi andiamo subito su situazioni, prendiamo quando si clicca sulla bandierina verde, la ingrandisco così la vedete meglio anche voi. E poi devo prendere subito il comando mostra, che è nella categoria aspetto mostra. Poi devo prendere un per sempre, che è nella categoria controllo. Eccolo qui, forse ho fatto un po' troppo grande, lo riduco e sposto qui sopra. Qui dentro, a questo per sempre, devo mettere un se allora. Quindi se allora è questo. E poi ancora dentro un se allora altrimenti, che è questo con tre bracci. Lo metto qui dentro e adesso vediamo che cosa dobbiamo controllare. Dunque il mostra va bene qui. Il per sempre deve controllare se sta toccando pacman. Quindi lo sappiamo che è un sensore e scegliamo che cosa? Il pacman. Se sta toccando pacman, allora che cosa succede? Che farà un altro controllo. Deve controllare se il contatore è uguale a nove, cioè se abbiamo mangiato tutti i frutti. Sono nove i frutti. Quindi andiamo sui sensori. Ma momento, attenzione, qui dobbiamo mettere prima di tutto un operatore, perché deve controllare una uguaglianza. Quindi prendo questo qui, lo inserisco qui dentro e adesso devo andare a prendere il contatore e tra le variabili. Prendiamo contatore, lo mettiamo qui dentro e lui deve controllare se è arrivato a nove. Quindi tolgo il 50 e il metto di nove. E poi, quindi, se si verifica questa condizione, deve dire qual è il tempo che abbiamo ottenuto per tre secondi. Il dire è in aspetto. Sì, eccolo qui. Prendiamo questo, lo inseriamo qui dentro, cambiamo il tempo, mettiamo tre secondi. Ma non deve dire ciao, ma deve scrivere, questo dire in realtà è scrivere, dovrà scrivere quanti secondi o quanto tempo, anche minuti, siamo riusciti a completare tutto quanto il labirinto. Quindi andiamo su sensori, scegliamo cronometro, lo usiamo come una variabile e lo mettiamo qui dentro perché deve essere il valore che deve essere scritto. Ma se non è così, quindi altrimenti, deve dire hai perso per tre secondi. Quindi torniamo di nuovo su aspetto. Qui hai perso e cambiamo il numero da due a tre. Allora così potrebbe anche considerarsi finito, però dopo che ha detto che hai perso deve nascondere la ciambella, naturalmente. perché se non hai perso, allora la deve nascondere. Quindi andiamo su aspetto, prendiamo il nascondi e lo mettiamo qui, prima dell'ultimo braccio, prima dell'ultimo braccio del sé. E quindi si completa così. Naturalmente poi dopo, se volete, potete anche fare delle variazioni. Per esempio, ormai sapete come parlare con un suono oppure con la voce e potreste mettere anche un suono ogni volta che viene mangiato un frutto. Allora, intanto proviamo a vedere se funziona così. Poi proveremo a fare qualche variante. Quindi per provare il tutto, intanto ci conviene salvare, se va via la corrente perdiamo tutto. Quindi scegliamo il nome Pac-Man. Pac-Man però, attenzione, ha premuto il blocco maiuscolo per errore. E aggiungete anche una data. Quindi oggi è 31 maggio 2021. Se volete potete metterci anche l'orario, nel caso in cui vogliate salvare varie versioni con la stessa data. E con questo nome andiamo adesso sul menu e la voce File, scegliamo Salva una copia. Adesso io ho potuto fare Salva una copia perché ho fatto il login con il mio account, ma se voi non avete un account e siete andati direttamente su Crea, quando avete iniziato il vostro Pac-Man, allora invece che salva una copia dovreste scegliere Salva sul tuo computer, perché se non avete fatto il login non avete lo spazio cloud a disposizione. Quindi Salva sul tuo computer. L'ha fatto in un attimo. Vedete, non ci ha chiesto neanche il nome perché ha preso come nome quello che abbiamo scritto qui. Dove l'ha salvato? Nella cartella del download. Da lì potremo andarlo a riprendere. Dunque proviamo adesso ad ingrandire lo stage a tutto schermo e proviamo a premere la bandierina verde. È partito, il contatore si è azzerato. Il tempo è partito anche se non lo stiamo vedendo. Quindi andiamo avanti, mangiamo uno, mangiamo un altro, andiamo su, mangiando anche di qua e poi ancora di qua. Attenzione a non urtare i muri perché se no ci riporta all'inizio. E prima devo prendere questo. Adesso che sono nove, effettivamente lo vediamo che il contatore ci dice nove, possiamo andare... Attenzione, per un attimo non ho toccato il muro blu. Andiamo su a mangiare la nostra... Eccola qui. È scomparsa... non è scomparsa subito perché l'abbiamo messa... Sì, vi faccio vedere. Allora, torniamo... stop. Torniamo indietro. Qui prima dice il cronometro per tre secondi e poi lo ha nascosto. Voglio far vedere invece come si fa a mettere il suono, anzi la mia voce registrata che dice hai perso, invece di semplice scritta qui. E allora devo andare sui suoni. Clicchiamo qui su questa etichetta suoni. Quello che vedo adesso è un suono di default, un battito praticamente. E ci sono già anche degli altri suoni. Proviamo a sentire questo. Beh, questo potrebbe andar bene ogni volta che mangia un frutto. Teniamolo in considerazione. Allora, adesso però io devo registrare la mia voce. Quindi devo spostare un po' qui la finestrella con la mia faccia e quindi vado a cliccare sul... anzi prima in rollover, attenzione, poi scivolo con il mouse sul microfono. Attenzione, mi sposto ancora un po' perché altrimenti non leggete quello che c'era scritto. Vado sul microfono e compare registra. Adesso, se voi lo state utilizzando per la prima volta, probabilmente vi compare una finestra di avviso che vi chiede autorizzazione ad utilizzare il vostro microfono. Quindi io dico sì, registra e attenzione, appena clicco su registra inizia subito, quindi devo star pronto altrimenti viene un silenzio. Hai perso. Ecco, vedete questa è la forma d'onda. Hai perso. Beh, dà anche un effetto di riverbero. Dunque, quindi volendo, noi possiamo anche spostare questo qui e far partire la registrazione salva soltanto da qui a qui. Salva. Gli diamo anche un nome adesso. Lo chiamiamo hai perso, col bel punto esclamativo. E quindi qui abbiamo adesso tre suoni. Questo qui, il primo, il byte, e poi il mio, che è quello che ho appena registrato. Dunque, dove lo andiamo a inserire? Andiamo di nuovo sul codice. Dove c'è scritto qui dire hai perso per tre secondi? Lo spostiamo, perché andiamo a prendere adesso dalla categoria suono, riproduci suono, e lo mettiamo qui. Questo lo possiamo buttare via. E allora, adesso dirà hai perso. Poi, se vogliamo anche mettere quel suono di, lui lo chiama chomp, che è il suono ogni volta che viene mangiato un frutto, dovremmo andare a modificare in ognuno di questi. Quando nasconde vuol dire che ha mangiato e quindi ha aumentato di uno il contatore, mettiamoci anche a via riproduzione del suono chomp e poi nascondi. Questo però lo dovremmo fare su ogni mela. Quindi qui, prima del nascondi, anche sul mela 3. A via riproduzione del suono chomp. Poi anche sull'arancia. Oh no, sull'arancia mi dà un suono diverso. Invece vogliamo via riproduzione del suono, attenzione, andiamo ad ingrandire, andiamo a cliccare la bandierina verde e quindi proviamo allora a partire con la mela. Ecco qui. Qui non si sente niente, però la mela dovrebbe... sì. Poi un'altra mela. E infine un'altra. Va bene, insomma, adesso non continuo a giocare perché voglio vedere... voglio vedere di mettere un suono anche alle arance. Quindi andiamo su riproduci suono. Proviamo a mettergli quelli che ci dà lui e quindi dobbiamo tornare qui sulla banana. riproduci il suono bite. Poi su banana 2 e su banana 3. Poi torniamo su arancia. Prendiamo il suono pop. poi arancia 2, il suono pop. E poi arancia 3, ancora il suono pop. Ora qui naturalmente se vogliamo possiamo registrare anche noi un altro suono. Oppure dobbiamo andare a prendere un altro suono dalla libreria dei suoni. Però per me è sufficiente già così. Quindi vado di nuovo a scegliere file salva ora. E quindi proviamo a fare un'ultima partita. Si parte da qui. Bandierina verde. Però avete notato una cosa. Che sì, mi posiziona lo sprite del Pac-Man nella posizione iniziale. Però gli deve dare anche la direzione iniziale. Quindi interrompo. Stop. E torniamo sullo sprite. Quando gli dà la posizione deve anche dargli, aspetto, punta in direzione, sul movimento dove deve essere. Punta in direzione 90 e così già partirà con la faccia rivolta verso destra. Naturalmente poi uno può anche andare verso l'alto e si posizionerà in direzione opportuna. Facciamo l'ultima prova. Ecco, si è posizionato correttamente. Quindi dovremmo avere tutti i suoni. poi... Adesso ho messo il cionpo. Vediamo sul banana e poi sul... Attenzione perché qui posizione è a rischio. Ci siamo. Andiamo a prendere la nostra ciambella e il contatore ci nasconde il tempo. Quindi non va bene qui il contatore. Il contatore conviene nasconderlo proprio oppure farlo più piccolo. Però prima dobbiamo interrompere. Più piccolo. Contatore più piccolo. In questo modo il contatore non dovrebbe darci fastidio. Bene, allora, ragazzi, io salvo per l'ultima volta. File, salva. Con questo abbiamo terminato. Io spero che vi siate divertiti e per il momento vi do un arrivederci alla prossima lezione di coding, ancora una volta con la modalità del gamification. Arrivederci.